In occasione della giornata mondiale delle malattie rare che ricorre il 28 febbraio, l'ASL di Taranto ha voluto organizzare un incontro informativo con il direttore generale Vito Gregorio Colacecco e referente aziendali per la presentazione dei servizi già attivi e dei progetti futuri relativi al nuovo piano nazionale malattie rare. L'ASL Ionica aveva già dimostrato il suo grande impegno e la grande sensibilità sul tema con la vicenda del piccolo Andrea di soli 9 anni, affetto da una patologia rara, la mutazione Genesox 4, unico caso in Italia e di cui ci siamo occupati nel corso dei nostri notiziari e per il quale si va verso una soluzione per evitare i viaggi della speranza e qui costretta periodicamente la mamma Simona. Tutte le volte che una mamma con un bambino è costretta ad andare fuori, ad andare in altre regioni, per noi è un po' un fallimento, anche se siamo consapevoli che la rarità assoluta a volte di alcune malattie impune dei centri che poi alla fine sono pochi e a volte sono nazionali. Però noi non ci fermeremo mai con la dottoressa Di Gregorio, la nostra struttura di ASL e con il riferimento regionale e nazionale della dottoressa Annicchiarico continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. E quindi da questo punto di vista è in programma l'attivazione del coro per la fragilità, la presa in carico a tutto tondo delle famiglie di questi pazienti, così come l'attivazione dei nuclei assistenziali territoriali. Una sorta di terra di mezzo che manca in quella continuità assistenziale che la dimissione protetta e il ricovero in un altro centro. Importante è rafforzare i percorsi e le connessioni tra ospedali e territorio ed informare la cittadinanza sui servizi offerti dalla sanità pubblica. È stato approvato il secondo piano nazionale malattierare alla cui stesura ho partecipato rappresentando le regioni del sud. L'obiettivo è quello di rafforzare i percorsi. Con questo piano strutturiamo e sostanziamo e rafforziamo le connessioni tra gli ospedali e il territorio. La nascita del NAT qui nella ASL di Taranto, già sede di un centro territoriale malattierare, è l'esempio chiaro di un sud in fermento, un sud che è consapevole dei propri limiti, delle proprie difficoltà, facilita l'assistenza attraverso l'offerta di servizi connessi. Bisogna venire un po' allo scoperto ancora di più perché tanta gente ci ha conosciuti ma tanta gente ancora no. Avantieri è venuta una signora col marito, diceva dottoressa grazie di tutto ma non sapevo dell'esistenza di questo centro. Ecco perché non un evento scientifico, formativo, ne abbiamo fatti tanti altri, bensì un evento informativo per la diffusione.